Noi ci siamo abbassati, è normale che la squadra che sta perdendo spingi di più, non doveva succedere quello che è successo perché quando sei in vantaggio, soprattutto di due gol, non puoi perdere una partita così, fa male però dobbiamo continuare, dobbiamo alzare la testa e pedalare. Secondo me ci siamo abbassati un po' troppo, mi davamo degli spazi e quando ti dà troppo campo a queste squadre loro ti fanno male, sì però non è abbassata, quindi la prestazione lasciamo stare e dobbiamo guardare avanti. No, dobbiamo dare la vita, dobbiamo dare tutto, dobbiamo sputtare il sangue perché così non riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza, sappiamo che ogni giornata che passa è sempre più lontana, quindi dobbiamo dare di più, dobbiamo fare di più, quindi è difficile però noi ci proviamo fino alla fine.